Alla celebrazione della Santa Messa. Vi do lettura del messaggio del Santo Padre in occasione della ventitresima edizione del Meeting, messaggio che il Santo Padre ha inviato al Vescovo di Rimini. Eccellenza Reverendissima, in occasione della ventitresima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, il Santo Padre la incarica di porgere agli organizzatori e ai partecipanti il suo cordiale saluto e di manifestare loro vivo apprezzamento per questa importante iniziativa che ormai da diversi anni costituisce un appuntamento significativo del mondo cattolico italiano. Il titolo dell'incontro di quest'anno, Il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza, presenta una tematica molto interessante. Cristo ha detto «Io sono la verità» e chi lo ha incontrato sulle strade della Palestina ha visto in Lui anche il più bello tra i figli dell'uomo. La singolare coincidenza tra verità e bellezza che si realizza nel verbo fatto uomo si ripropone spesso nelle rappresentazioni dell'arte cristiana, suscitando anche nella nostra epoca il desiderio di poterla ritrovare nelle odierne composizioni. In effetti, in questo nostro tempo, il pensiero tende spesso a sostenere che la verità sarebbe estranea come tale al mondo dell'arte. La bellezza, poi, riguarderebbe soltanto il sentimento e rappresenterebbe una dolce evasione dalle ferre e leggi che governano il mondo. Ma è proprio così? La natura, le cose, le persone, a ben vedere, sono capaci di stupirci per la loro bellezza. Come non vedere, ad esempio, in un tramonto di montagna, nell'immensità del mare, nei lineamenti di un volto, qualcosa che ci attrae e nello stesso tempo ci invita ad approfondire la conoscenza della realtà che ci circonda? Tale constatazione spinse il pensiero greco a sostenere che la filosofia nasce dalla meraviglia, mai disgiunta dal fascino della bellezza. Anche ciò che esula dal mondo sensibile possiede una sua intima bellezza che colpisce lo spirito e lo apre all'ammirazione. Si pensi alla potenza d'attrazione spirituale esercitata da un atto di giustizia, da un gesto di perdono, dal sacrificio per un grande ideale vissuto con letizia e generosità. Nel bello traspare il vero, che attrae a sé attraverso il fascino inconfondibile che emana dai grandi valori. Sentimento e ragione si trovano così ad essere radicalmente uniti da un appello rivolto alla persona tutta intera. La realtà con la sua bellezza fa sperimentare l'inizio del compimento e quasi ci sussurra tu non sarai infelice. La domanda del tuo cuore si realizzerà, anzi già si realizza. Talora la bellezza può sedurre e corrompere, ma questa degenerazione, come ricorda il Vangelo, rappresenta un amaro frutto di una scelta non buona che nasce nel cuore della persona, perché non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. In questo caso lo sguardo dell'uomo si ferma a ciò che appare e, negando il richiamo ad andare oltre, richiamo presente in ogni cosa bella, ne nega il valore di segno e ne pretende il possesso, cancellando così nel tempo ogni traccia di bellezza. A questa amara esperienza si riferisce Sant'Agostino nelle confessioni, quando riconosce «mi gettavo sulle cose belle che hai creato, mi tenevano lontano da te le tue creature, che non esisterebbero se non fossero in te». Il Vescovo di Ippona ricorda però che fu proprio la bellezza a liberarlo da questa angustia. «Mi hai chiamato, hai gridato e hai vinto la mia sordità, hai mandato bagliori, hai brillato e hai dissipato la mia cecità, hai diffuso la tua fragranza, io l'ho respirata e ora anelo a te». Il fulgore della bellezza contemplata apre l'animo al mistero di Dio. Già il libro della sapienza rimproverava coloro che dai beni visibili non hanno saputo riconoscere colui che è, giacché dall'ammirazione della loro bellezza avrebbero dovuto risalire all'autore. Infatti dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. La bellezza possiede una sua forza pedagogica nell'introdurre efficacemente alla conoscenza della verità. In definitiva essa conduce a Cristo che è la verità. Quando infatti l'amore e la ricerca della bellezza scaturiscono da uno sguardo di fede, si riesce a penetrare più a fondo le cose e a entrare in contatto con colui che è la fonte di ogni cosa bella. L'arte cristiana, nelle sue migliori espressioni, costituisce una splendida conferma di questa intuizione, presentandosi come un omaggio della bellezza trasfigurata, resa eterna dallo sguardo della fede. Il fervido auspicio del Sommo Pontefice è che il prossimo meeting per l'amicizia tra i popoli possa contribuire a diffondere quel modo nuovo di guardare le cose che insegna Gesù. In tal modo l'arte può divenire strumento di evangelizzazione, aiutando a promuovere una rinnovata stagione missionaria. Egli formula altresì, fervi di voti, perché questo incontro costituisca per tutti i partecipanti una preziosa occasione di comunione nella carità, di crescita nella fede e di contemplazione di Dio, vera e soprannaturale bellezza. A tal fine, egli assicura un ricordo nella preghiera e, invocando la materna intercessione di Maria, tota pulcra, invia a vostra eccellenza, ai promotori, agli organizzatori e a tutti coloro che prenderanno parte al meeting, una speciale benedizione apostolica. Cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato. Per te, Signore Padrone, potente glorioso, tutta la terra sia come un unico toro. di nome a te, e il nostro canto per te, voce del popolo tu. Solo amor che vivendo ci doni la vita, che nella vita la morte ci hai sempre salvato. di nome a te, voce del popolo tu. 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 Nel nome a te, voce del popolo tu. di nome a te, voce del popolo tu. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere la vita nuova. riconosciamoci bisognosi della mercedicordia di Dio. confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me e il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. signore pietà signore pietà Cristo pietà signore pietà Signore pietà Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che Ti amano, effondi in noi la dolcezza del Tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da Te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro del Profeta Isaia Così dice il Signore Parola di Dio, Popoli tutti, lodate il Signore. Dio, abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la Tua via, fra tutte le genti la Tua salvezza. Popoli tutti, lodate il Signore. esultino le genti e si rallegrino perché giudichi i popoli con giustizia governi le nazioni sulla terra ti lodino i popoli Dio ti lodino i popoli tutti ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani fratelli ecco che cosa dico a voi gentili come apostolo dei gentili io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo quale potrà mai essere la loro riamissione se non una risurrezione dai morti perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza così anch'essi ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi perché anch'essi ottengano misericordia Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia parola di Dio Gesù predicava la buona novella del regno e curava ogni sorta di infermità nel popolo Alleluia 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 Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo partito di là Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni si misa a gridare Pietà di me Signore figlio di Davide mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio Ma egli non le rivolse neppure una parola Allora i discepoli gli si accostarono implorando Esaudisci la vedi come ci grida dietro Ma egli rispose Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo Signore aiutami Ed egli rispose Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini È vero Signore disse la donna ma anche i cagnolini si cibano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni Allora Gesù le replicò Donna davvero grande è la tua fede ti sia fatto come desideri e da quell'istante sua figlia fu guarita Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Viviamo questa celebrazione eucaristica in comunione con tutta la Chiesa presente e viva nelle diverse comunità cristiane che oggi si ritrovano come noi per incontrare il Signore Non siano i nostri progetti umani le nostre affinità a tenerci insieme ma il mistero della morte e resurrezione di Gesù il Figlio di Dio dal quale scaturisce perennemente il dono e la possibilità di vivere in fraternità Accogliamo con fede le parole dell'Evangelista Matteo Ripercoriamo con fede Ripercoriamo i gesti le preghiere della donna cananea che supplicava Gesù di liberare sua figlia crudelmente tormentata da un demonio la donna la donna viene caratterizzata dalla sua grande fede è Gesù stesso che così la descrive donna davvero grande è la tua fede l'Evangelista Matteo ha voluto descrivere i passaggi di questo cammino di fede perché anche noi possiamo percorrerli inizialmente viene detto che Gesù esce da Genezareth dove aveva avuto luogo la disputa con i farisei venuti da Gerusalemme per trarlo in inganno le parole che Gesù rivolge loro citando il profeta Isaia sono un richiamo forte a uscire da una revigiosità esteriore fatta di parole preghiere e riti ma lontana dall'amore di Dio e dei fratelli questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me Gesù si dirige verso le parti di Tiro e Sidone terre pagane l'incontro con la donna cananea diventa occasione per manifestare il vero cammino di fede questa donna è affranta per la grave malattia di sua figlia madre e figlia sono icone viventi dell'intera umanità ma incapace di trovare salvezza e vita con le sole forze le sole proprie forze se il primo passo del cammino di fede è riconoscere la propria condizione di limite il passaggio successivo porta a cercare il volto del Signore e implorare pietà la cananea non pretende e non accampa diritti chiede aiuto a colui che è amore e misericordia riconoscendolo Signore e Messia Pietà di me Signore figlio di Davide mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio la donna in questa sua ricerca non è sola ma è sostenuta e guidata dalla presenza dello Spirito di Dio che da sempre ovunque opera la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio anche noi che possediamo le primezze dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli la redunzione del nostro corpo l'uomo ogni uomo pur segnato da tante esperienze di peccato porta in sé insopprimibile la nostalgia di Dio il desiderio di incontrarlo per vivere con lui dopo la descrizione così ricca di sentimenti di questa madre che implora e prega l'attenzione dell'Evangelista viene posta su Gesù che sembra opporre un rifiuto insuperabile alla preghiera fiduciosa della donna ma Gesù dice l'Evangelista non le rivolse neppure una parola Gesù nella sua missione storica si è rivolto quasi esclusivamente a Israele sarà questo poi a trasmettere il dono agli altri l'incontro di Gesù con una persona che non è mai non è mai un fatto privato ma è sempre una chiamata ad andare ai fratelli fino agli estremi confini del mondo per annunziare e comunicare la gioia della salvezza il silenzio di Gesù verso i pagani prepara i discepoli a portare loro il Vangelo carissimi vivere l'incontro con il Signore come accade per noi oggi significa dilatare i cuori per far entrare tutta l'umanità con le sue domande le sue sconfitte le sue sofferenze siamo infatti invitati ad essere come i discepoli che sembrano rimproverare il Maestro perché non interviene esaudiscila vedi come ci grida dietro le loro parole rivelano come Gesù abbia già cambiato il loro cuore rendendoli compassionevoli anche verso i pagani la donna riconosce che Gesù si rivolge innanzitutto alle pecore perdute della casa di Israele ma con una fierezza che rivela grande fede vera conoscenza del cuore di Gesù si dichiara disposta proprio come i cagnolini a mangiare anche solo le briciole le briciole ossia non tutto ma solo il di più quello che avanza che rimane non consumato dai convitati che cade a terra dalla tavola e noi ricordiamo come nella prima moltiplicazione dei panni non solo erano stati sfamati tutti i presenti ma erano state raccolte dodici ceste pieni di pezzi avanzato la donna catenea percepisce che al banchetto del regno il pane non è contato ce n'è in abbondanza per tutti e nessuno corre il rischio di rimanerne senza donna davvero grande la tua fede ti sia fatto come desideri la fede di questa donna è grande a differenza di quella dei discepoli che è poca è grande come quella del centurione romano che suscita la meraviglia di Gesù per questa fede molti verranno da oriente e da occidente e sederanno a messa a mensa sazi della beatitudine di chi mangia il pane del regno riprendiamo il tema guida di questo vostro incontro il sentimento delle cose la contemplazione della bellezza lo riprendiamo nella luce che viene dalla parola di Dio emerge immediatamente come la nostra adesione a Cristo risvegli in noi il vero sentimento delle cose quel sentimento che lontano da Lui rimane come un gemito e fatica a orientarsi verso la piena rivelazione della realtà è il Signore Gesù che svela l'uomo a se stesso è a Lui che tende ogni vero desiderio di bene e di vita dell'uomo questa assemblea eucaristica nella sua realtà sacramentale è fonte e culmine della realtà in essa già ora siamo chiamati a contemplare la bellezza di Dio e a sperimentare la tenerezza del suo amore molti sono i problemi che segnano la vita dell'uomo e dei popoli tante sono le proposte che vengono messe in campo per rendere più vera e libera l'esistenza noi sappiamo che lo stare con il Signore accogliendo la sua parola rigenerati da Lui nei sacramenti ben radicati nella comunione ecclesiale è perenne fonte di energia che trasfigura il mondo liberandolo dalla frantumazione del peccato ricomponendolo nella sua unità e bellezza originaria abbiamo appena vissuto la solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo quanto noi contempliamo della bellezza di Dio come in uno specchio lei la madre nostra lo vive nella piena comunione di Dio chiediamo a lei di aprire i nostri occhi con il dono della fede di ravvivare i nostri cuori con la carità di aprire il nostro impegno nel mondo con la forza della speranza Amen Grazie Grazie Credo in un solo Dio Padre Onipotente Creatore del cielo della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero Dio vero generato non creato dalla stessa sostanza del Padre Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo ci è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crucifisso per noi il sudoponcio di lato morì il terzo giorno risuscitato secondo le scritture è salito al cielo si è dalla destra del Padre e di nuovo la rado gloria ai genitori di Mono e il suo regno avrà finito credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professa un solo battismo per il perdono dei peccati e aspetta la risoluzione dei morti e la vita del mondo che verrà amico fratelli carissimi riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri intenzioni e propositi degni della sua santità preghiamo insieme diciamo ascoltaci oh Signore ascoltaci oh Signore per il nostro Papa Juan Pablo II per che Dio lo aiude in sua misura di incansabile testigo della verità di la qual ha sido luminoso esempio il recien encuentro con i joven in Toronto per il Colegio Episcopale per che sia guia con autorità in sua grande ver di evangelizzazione per la Iglesia entera per che si offrezca a cada hombre come lugar di incontro con il Cristo vivo preghiamo 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 Per tutti noi qui presenti, per chi collabora alla realizzazione del meeting, per le persone che incontreremo in questi giorni, perché la grazia dello Spirito offre a ciascuno occasioni proficue per sperimentare la bellezza che scaturisce dall'esperienza cristiana, preghiamo. Accogli, Signore, i desideri della Tua Chiesa. La Tua misericordia conceda a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non oso sperare. Per Cristo nostro Signore. Signore, Signore, i desideri della Tua Chiesa. Signore, Signore, i desideri della Tua Chiesa. Signore, Signore, i desideri della Tua Chiesa. Grazie a tutti. 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 Mistero. Mistero. Grazie a tutti. 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 tutti i secoli. Amen. e a tutti. Grazie 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 a tutti. I nostri peccati ma la fede della tua chiesa e donne la unità e pace secondo la tua volontà tu che vive a regni nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi scambiatevi un segno di pace agnello di Dio unito in questo caso ci siano per il cibo di vita eterno Signore Gesù Cristo, figlio del Pio con la volontà del Pio Signore Gesù Cristo, figlio del Pio Beati gli invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Signore Gesù Cristo, figlio del Signore Signore Gesù Cristo, figlio del Signore Il Signore è la mia salvezza. E con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me, berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza. E quel giorno voi direte, lodate il Signore e invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto. E ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Cantate a chi ha fatto grandezze e si ha fatto sapere nel mondo. Grida forte la tua gioia. Grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché è grande con te il Signore. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. La salvezza è qui con me. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza. Signore letà Mie imparatriata Acase boiatà Mie imparatriato Acase boiatà C'è stato un pequeno I'm 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 I I'm I I'm I I'm 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 I Grazie a tutti. 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 I nostri passi non hanno smarrito la tua strada. Della morte, della vita, del presente e del futuro. La tua gente non ha paura. La tua rocca sta sicura. Il nostro cuore non si è perduto. I nostri passi non hanno smarrito la tua strada. Col mio canto, con l'amore e le parole. La tua gloria, la tua gloria, la tua forza griderò. Il nostro cuore non si è perduto. I nostri passi non hanno smarrito la tua strada. Non si è perduto 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 la tua strada. Grazie. 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 Preghiamo. O Dio che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La Messa è finita. Andate in pace. La Messa è finita. 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 La Messa è finita.